Ciao da Avsim, perdonate la lavagnetta ho scritto malissimo ma parliamo di Tottenham Borussia Dortmund partita clamorosa perché è stata dai mille volti, secondo me praticamente quella che è stata la partita del Tottenham è stato così cioè il grafico della partita del Tottenham è stato così, una linea retta in diagonale che è praticamente una crescita lineare forse anche esponenziale possiamo dire nel corso della partita perché nel primo tempo aveva fatto solo possesso palla sterile con qualche folata, qualche sprazzo di Son che è sicuramente stato l'uomo della partita insieme a Vertonghen ma forse più Vertonghen anche perché quando gli rima, quando ti ricapita Vertonghen invece il Dortmund si era reso più pericoloso, le parate le aveva dovute fare Lloris, ha dovuto fare anche un miracolo Lloris nel primo tempo quindi per il Tottenham, Dortmund che sembrava riuscire ad attaccare meglio, verticalizzazioni, progressioni sia in avanti che diciamo con tagli centrali abbastanza messa in difficoltà la difesa del Tottenham sia in quanto difesa del Tottenham che in quanto difesa di squadra inglese comunque sempre abbastanza deludente, mai di qualità adeguata e quindi sembrava quasi che nel secondo tempo dopo questa fase di studio nel primo tempo in cui effettivamente la partita è stata brutta dovessi andare a prevalere il Dortmund, invece no, cioè il Dortmund non è mai entrato in campo nel secondo tempo è stata collamorosa questo, hanno completamente mollato, hanno deciso praticamente di non giocare più non si è più visto il Dortmund, non saprei onestamente dirvi chi potrebbe meritare diciamo un premio come non peggiore in campo del Dortmund, cioè meno peggio del Dortmund lo darei a Giadon Sancho perché comunque Giadon Sancho, ne stiamo parlando benissimo in questi mesi è uno degli astri nascenti del calcio, nello specifico inglese ma insomma sta appunto nel Dortmund quindi in Germania, ma voglio dire del calcio europeo possiamo dire però non è che abbia fatto, non ha fatto niente di particolare, ma ripeto proprio il Dortmund se nel primo tempo aveva sofferto il possesso del Tottenham riuscendo però comunque a contraattaccare nel secondo tempo ha sofferto e basta, ha sofferto e basta e poi la partita appunto l'hanno decisa Son e Vertonghen Vertonghen che è l'uomo in più, l'uomo in più ma l'uomo in più è Pochettino perché Vertonghen come sapete, sappiamo tutti, è un difensore centrale che può fare anche il terzino e fa diciamo anche il terzino Pochettino ha messo il 3-4-1-2, non aveva Harry Kane quindi aveva un attacco che non era un attacco perché Son con Lucas Moura non è un attacco, insomma con dietro Eriksen per carità un reparto offensivo di tutto rispetto ma manca un centravanti evidentemente e ha adattato appunto Vertonghen all'esterno sinistro di centrocampo a 4 quindi un terzino avanzato e Vertonghen mi ha ricordato un mio amico del calcetto che è difensore centrale anche abbastanza statico quando gli capita di poter andare in avanti si prende ogni licenza dribbla, prova a dribblare, rientra, tiro a giro, cose che non sa fare e gli riescono anche bene, Vertonghen ha fatto questo era l'amico difensore del calcetto diciamo con un ristretto bagaglio tecnico che gli prende così, gli parte l'estro, va in attacco e gli riesce tutto perché ha fatto golle assist e veramente si è reso anche pericoloso con un'altra azione in cui ha fatto il fenomeno rientrando, tagliando il campo in diagonale sul destro poi ha sparato un po' alto ma veramente l'uomo della partita un cross perfetto dentro appunto di sinistro per Son che fa un grandissimo gol e apre le marcature e lì diciamo che cambia veramente la partita perché da lì in avanti il Tottenham al di là del possesso, al di là del predominio sul Dortmund ha veramente anche creato l'occasione da gol e ha veramente legittimato e dimostrato di dover vincere questa partita poi appunto è arrivato il gol di Vertonghen, è arrivato veramente una serata clamorosa per lui con esultanza anche molto simpatica diciamo che fa fingendo di aprirsi la camicia per mostrare sotto lo stemma di Superman e poi è arrivato il terzo gol di Nando Llorente che insomma non posso che amare sempre in eterno a prescindere e che era appena entrato, altro cambio decisivo di Pochettino anche questo va detto e che non è un gol inutile, cioè sembra inutile un 3-0 invece è un gol fondamentale perché praticamente grazie anche al gol di Llorente il Tottenham è praticamente passato cioè ditemi nei commenti e votando il sondaggio se secondo voi il Dortmund ha ancora qualche chance può ribaltare questa situazione sicuramente dovranno giocare in casa però perdere 3-0 insomma l'abbiamo visto noi, l'abbiamo visto la Juve l'anno scorso ai quarti contro il Real Madrid con la differenza che noi perdemmo 3-0 in casa ma era pure il Real Madrid quindi magari la differenza tra le due squadre potrebbe anche vedersi di meno al ritorno però onestamente ribaltare un 3-0 giocando in casa giocando in casa quindi non avendo neanche la possibilità del gol doppio segnando fuori casa è veramente veramente difficile il Dortmund dovrà fare la partita perfetta per sperare di andare ai supplementari quindi non subire gol dal Tottenham sperando di andare su... tra l'altro non lo so ma può darsi che al ritorno ce la faccia anche Harry Kane per recuperare forse no perché mi sembra che l'infortunio era abbastanza lungo nel caso ce la facesse veramente stanno messi proprio male insomma il muro giallo rischia di crollare ed è clamoroso perché insomma veramente sono arresi cioè il Dortmund sembra essersi arreso nel corso della partita e quindi praticamente andrà a casa buona partita comunque in generale da parte del Tottenham non buonissima alcuni giocatori non hanno proprio reso proprio alla grande chi ha deluso però comunque nel complesso bel Tottenham chi ha deluso del Dortmund invece è stato Hakimi perché ci si aspetta tanto da lui è uno dei giocatori diciamo più promettenti però proprio lui ha ceduto sul cross di Vertonghen che va al solo 1-0 e quindi vale per lui diciamo qualche nota negativa nel corso della partita come diciamo come valutazione generale va beh insomma questa è la mia ditemi la vostra votate appunto il sondaggio e scrivete qui sotto nei commenti la vostra impressione su questo Tottenham Dortmund chi passa il turno chi va ai quarti ormai sembra già scritto ci vediamo presto grazie per aver guardato e sempre forza Juve grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti